SIGEP di Rimini, tra le tante aziende presenti al SIGEP di Rimini ce n'è una che arriva dal Marocco che è presente per la prima volta al SIGEP, ne parliamo con il titolare che ci illustra cosa si aspetta dalla sua presenza al SIGEP di Rimini, quali sono i prodotti che produce, che propone e se l'intendimento è di commercializzarli anche nel nostro paese. Io vorrei chiedere se avete l'idea di commercializzare il vostro prodotto in Italia e se c'è la prima volta che venite qui. Ok, il SIGEP per noi è un salone molto molto importante. Abbiamo accettato a diversi tipi di clienti in Europa e anche in Africa del Nord. Abbiamo molti clienti con cui abbiamo accesso in Europa e soprattutto anche nelle parti dell'Africa del Nord. Abbiamo accettato a questa clientela, abbiamo proposto dei prodotti artigianali e industriali. Quindi alla nostra clientela offriamo dei prodotti principalmente artigianali. Siamo venuti al SIGEP per uno scopo di esportazione e la nostra ditta si chiama Epifrutti e siamo nel Marocco, principalmente di Casablanca. L'organizzazione del SIGEP ci permette di migliorare d'anno in anno il nostro merchandising, il nostro prodotto e la nostra dimostrazione per i prodotti. Il fatto di essere qui e di vedere molti concorrenti, possiamo sviluppare all'interno della partecipazione del SIGEP. Grazie al SIGEP ogni anno riusciamo anche con il confronto con gli altri operatori a svilupparci e a migliorare sempre di più i nostri prodotti. Quali prodotti proponete a questa edizione del SIGEP? E' in questa edizione? Abbiamo proposto di tutto ciò che è pazzesieria e boulangeria surgelate, semi-industriale, quindi ha alla fine un carattere artigianale e industriale, e tutta la gama di pazzesierie. In realtà c'è una grande gama, molto riche di prodotti. Principalmente i prodotti legati alla panificazione e alla pasticceria, soprattutto alla pasticceria della quale abbiamo una gamma veramente molto ampia, prodotti artigianali e semi-industriali anche. Poi abbiamo cercato di sviluppare altri prodotti, in termini di cioccolato, e questo viendrà al fur e a mesura, a traverso le prossime anni. C'è un progetto anche per quanto riguarda il discorso del cioccolato, un motivo in più di esportazione per quanto riguarda la nostra ditta. Già proponete dei vostri prodotti in Italia? Voi proponete dei vostri prodotti, ma non già in Italia? Abbiamo cercato di avere dei contatti a traverso il SIGEP per esportare in Italia. Abbiamo anche alcuni clienti in Francia, e abbiamo cercato di sviluppare sul mercato italiano, perché ci sono molte facilità, più culturalmente e anche economicamente. Grazie a SIGEP, cerchiamo appunto di creare i maggiori contatti possibili con l'Italia. Al momento abbiamo dei buonissimi contatti con la Francia, quindi speriamo che questo ci faciliti per poter entrare bene nel mercato italiano. Grazie.